musica 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 ok andiamo thank you you are welcome listen Rebecca if anything goes wrong or you have something to protect yourself I've got this you don't think I need to I don't know, maybe better keep that close come on Clem che li pigi il matto eh ci sto ormai tipo la seconda volta che rimane da solo e non è il massimo che è tipo l'eroe di guerra è il monumento ok fatemi controllare se mi sta registrando oh gabba tu da bosdo senti sarai sincero con te sono elastica, dovresti sapere che te lo avete forse dovremmo cercare lo stesso ok ma volevo parlarti lontano da loro ok dimmela tutta non sarei stata arrivata fin qua se non fossi intelligente però voglio metti in guardia io io stesso stessa semmai quel gruppo non reggerà ci sono già passata beh il più delle volte mi è stato adesso beh anche io ci sono passata eh non è che sei figa solo te potrei sentire stupire potrevelo stupirti qualcuno potrebbe essere aiuto E' una sofferenza troppo. Eh beh. Nelle situazioni di Rebecca non fanno più che girare le cose. Come fa a vivere senza fidarti? Proprio questo saprò io. Per quel che vale mi piacciono le persone in quel gruppo, ma i gruppi si sgretano. Le persone vengono uccise. Eh beh. Vabbè, perché mi hai fatto venire con te? Sto cercando di darti i tipi, non ti necessari che si provo a vivere. Il tuo giubbino, ad esempio, ti tiene a caldo, ma il bugante potrebbe afferrarlo. La mia sestra Jamie è un uomo di pedo, vorrei averlo ancora. Aspetta, ma lei non è cosa? Ho sempre voluto una sestra. Ma lei non è quella lì che non è venuta quel gruppo. Aveva una stupidaggine da bambino. Non ho seguito il discorso. Sai essere la sestra maggiore, beh, divertente. Ma... Ma... È molto difficile essere cattiva. Oh? Sai nascondere i giocati. Mi dice per un brutto ai capelli, fare il brutto ai capelli proposito. Non si sa. E' questa che fanno le sceglie? Non è tutto negativo, ma... Che posso dire? Non è tutto negativo, ma... Non è tutto negativo. Non è tutto negativo. Non è tutto negativo, ma... È un giocato, ma è un giocato in Virginia. Ma il migliore non è il giocato. È stato che non si conosciamo noi qui. Ma... Non si non siamo noi. È un giocato che non siamo noi. È un giocato. È un giocato. Ok. Jackpot. Jackpot. Ma potete venire a dire bingo? What the fuck? Credo che questi walker hanno alcune cose buone. Oh, sì. Perché dovrebbero avere qualcosa di aiuto? Non dovremmo cercare le persone di scuola. Perchè siamo? Sì, dovremmo cercare le persone di scuola. Ma tu sai cosa è vero. Solo perché sono freschi. Cioè? Guardate. Gli vecchi walker sono un po' di tempo. Sì, loro seguono le carte di credito. Che sono le mie pagine? Che sono le mie pagine? Ah, ma queste non le mette così. Non sono i suoi suoi suoi. Potrebbero avere qualcosa di utile. Vabbè, alla fine hanno ragione. Oh, disgusto. Ok. Vediamo cosa c'è nella tasca numero 1. Oh, palottole. Adesso ci trovo le munizioni, le cose 18 non miglioreranno. Tasca del vacante morto. Via, nella tasca numero 2 che dici? Le carte d'identità. Ah, potenti. Certo, alcune persone... certo, mezzo Italia e mezzo inglese è spettacolare. E qui invece che c'è? C'è? Grazie. Allora il tuo gruppo è sempre stato così e malandato. Ero in un gruppo migliore prima, è da poco che sono quello. Non so come fosse la stazione prima del mio arrivo. Ma Kenny era diverso, questo lo so. Eh, ho dovuto... Ha perso due persone tipo in meno di due anni, quant'è? Tre anni. Questi affari sono fantastici, spiegati come le scendono... Jamie ne aveva sempre il mio lavoro, se mi sono tagliato il mondo per prenderla. Vabbè. Ma perché sono tutti in terra sti zombie? Sì, nessuna pietà. Perchè? E infatti. C'ha l'occhi rossi. Allora... Cosa dice la zombie numero due? Cioè numero tre? Ogni... Gli occhiali di cosa? Di... di Sara? Ma quando ha parlato a Mick non ce l'ha... No, no. Non ho detto che sia morto. Allora lo so è che lei era qui. Potrebbe essere un buon signo. Beh... Conta che lei non ha gli occhiali... Cioè se non ha gli occhiali non vede nulla. È lei. Corri. 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 Dai io teniamo a trovare Sarina. Quella ragazzina lì mi sa che... È un persona a giocare per... Se faranno una terza stagione. A parere minima. E poi magari dirò anche una pezzata. Quindi... Vorrei tenermela stretta. Credo di sì. Forse non sono morti. Ma potrebbe essere anche pesi. Quanto accetta. Quanto apparenza si incastra facilmente. Sì, non usa questo. Un cacciavite. Un cacciavite per ammazzare delle vite. Lo so. Lo so che è molto efficace piantaglielo un testo perché gli distrugge il cervello. Penso che anche una persona normale morirebbe così. Si. Il tappo scorre. Appunto muoviti. Sono pronto. Sì. 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 No ma muovetevi cazzo. Facciamo una cosa per loro. Ok. Ok. Sì. 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 Troppo la ragazzina sta soffrendo. Ma devi piantaglielo in testa. Rifallo un'altra volta per sicurezza. Buon lavoro. Svi sai cosa stai facendo. Ora guarda questo. Ho una buona piccola addizione per noi. Guarda ora fa la figura di merda. Mi immagino una cosa tipo che cadeva in testa. Ha una scena in testa quando si è sotto. È buona sì. Allora. Vediamo cosa abbiamo sull'interno. Grazie professore. Muoviti. Mi sembra che la stanno stuprando. Sì. No! Ok. Che sta succedendo? Muovetevi. Ok. Che devo fare con questo? Oh no. Ma ora che ci penso? Come si sono pulito dal merdaio degli zombie dell'episodio precedente. Che devo fa? Che devo fa? Chi è l'altra voce? Scusa. Eh vabbè. Dobbiamo attaccare insieme però. Ah infatti. Non, 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 non. 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 ossia. Ah, come ci trova Agosto? Minchia. Vabbè. Almeno siamo sicuri che sta bene. Più almeno. Cosa facciamo ad entrare? Se riusciamo a fare abbastanza il rumore possiamo indire. Appunto, quello che ho pensato anch'io. Oltremmo! Sì, il rumore funzionerà. facciamo un po' di ruolo bene è pieno di barili ho capito ok parla se devo cercare vedi se riesci a trovare qualcosa per distrarli il televisore accenderlo ma non c'è la corrente si sembra molto forte non mi sembra il caso di rovinare la barricata ma questo peppe accensione non manca la chiave porca putt senza chiave non va un bel tubo ah si? ah si è vero si funziona dammi non lo faccio oh oh una volta che ci dovrebbero inculare non ci inculano dai su ah l'ho fatta apposta allora devo capire se siete stronzi o l'ho fatta apposta dammi non lo facciamo non ci succederemo vediamo un modo di farlo continuare e devo che è? che è? fai il minimo rumore si girano e finisci a stuprare a sangue e ora non si sa perchè ma ti rispondono speriamo un po' ehi qua ti rispondo dai ragazzina ma che cazzo vuoi? qui c'è il pranzo noi che devo fa per prunga? ci deve mettere un sasso appunto ci metti il cadavere potremmo utilizzare questo per bloccare il classo appunto si assicurate che sia una cacca? non ti preoccupare non ti preoccupare ora è sicuro che è morto ok dov'hai? mi serve il coso ho in mente? prequisiamo prendiamo tutte le precauzioni e dopo poggiamolo sul coso vabbè ma perchè te ne vai? poggia quel stronzo lì per la terza volta poggiamolo sul coso buona idea è come motha a una flamma diammi una mano spingi c'è tira come l'è? allora serviamogli la scena ma sono tutti uguali sti zombie è lavorato ora gentilmente fate il giro come si è brutto dietro come cazzo ha fatto ad accorgersi? tic mi dispiace cazzo è tuo come si è smesso? cazzo abbiamo togliere via 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 che fai? è smesso allora provi qualcosa di altro ah si bussa ma non è non è la buona soluzione è meglio parlare ok potevo parlare è la cosa più semplice termina qui questo video gameplay mi piaceggiate iscrivetevi al canale se non siete già iscritti commentate laccate alla fanpage di facebook in descrizione troverete il link per l'applicazione di chrome e firefox per rimanere sempre aggiunti con i miei video la gratis e domande e altro askfm noi ci vediamo al prossimo video ciao alla prossima